Quando ero piccolo, a casa mia, naturalmente l'acqua non arrivava dal rubinetto, proprio non c'era, bisognava andare in piazza a prenderla alla fontana. In cucina c'era un asse con due ganci dove si appendevano i secchi. Si andava in piazza portando i due secchi con l'attrezzo che si chiamava Brentola e la mamma mi portava sempre con sé perché non amava molto lasciarmi a casa da solo con le mie sorelle. E quindi un ricordo particolare, una volta a me piaceva molto giocare con l'acqua, ce n'era poca e quindi quando si poteva si giocava con l'acqua. Un giorno, penso che avevo più o meno quattro anni, ho questo ricordo solo una parte, probabilmente una parte me la ricordo perché me l'hanno raccontata, ma quella che ricordo sicura è la finale. C'era ancora mio nonno che è morto proprio quando io avevo quattro anni, lui era seduto sulla panca della legna, io mi ero preso una sedia, mi ero arrampicato su e giocavo con la cazza, si chiamava così lo strumento con il quale si raccoglieva l'acqua, una specie di mestolo rettangolare, mi raccoglievo e giocavo con l'acqua, la buttavo via, la sprecavo, quindi questo voleva dire che quando era finita bisognava andare a prenderla di nuovo in piazza. Il nonno ha cominciato a brontolarmi, a brontolarmi e io a un certo punto arrabbiato gli ho tirato una di queste cazze, questi mestoli di acqua. Lui si è arrabbiato, si è alzato, mi ha preso e mi ha infilato nella cassa della legna, nella cassetta della legna che aveva un coperchio dentro il quale si metteva appunto la legna e ci si è seduto sopra. E io ricordo questo momento in particolare, il buio, piangevo, mio nonno è seduto sopra, io non potevo naturalmente sollevarlo finché è venuta mia mamma a tirarmi fuori. Questo è il ricordo finale, quello ce l'ho sicuro e anche l'impressione di vedermi a tirar via l'acqua. Poi i ricordi di bambino molto spesso è perché vengono raccontati poi dagli adulti. Un altro ricordo invece più chiaro perché avevo già 5-6 anni, ero un pochino più grande, è che mia mamma mi portava sempre anche alla fontana quando si andava a lavare. Lì c'erano due fontane, una per lavare lo sporco e poi l'altra per risciacquare. E per tenermi tranquillo mi dava sempre un fazzoletto e un pezzetto di sapone che così potevo lavare anch'io, mi occupavo il tempo. Le donne che erano lì che lavavano mi dicevano, oh non che lava, guarda che ti va via le scarsele. E io rispondevo sempre, ormai diventava tradizione, tanto me mamma la me le taca. Ecco questi sono due ricordi particolari che avevo legati all'acqua.